On è a pollo! Mi gatto! Va scatto l'angelo Oni, me! Sì! ciao Io solo faccio solo, quindi non mara. Quindi, faccio il minuto copia e questo c'è... Crap! Seguro video, non lupo di Like, mettere un commento, e anche di Subscribe, e anche di cliccare la notificazione per la notificazione per il video del nostro canale Grazie a tutti per aver guardato il nostro corso Grazie a tutti per aver guardato il nostro corso Grazie a tutti per aver guardato il nostro corso Grazie a tutti per aver guardato il nostro corso Grazie a tutti per aver guardato il nostro corso Grazie a tutti 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 io ho hai 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 nei cuaca di luar tuh bagus ya tapi ya lagi terhadap berawan gitu guys enggak kelihatan envel tawarnya guys udah malam ya jam setengah delapan malam aku nyiapin pasta buat mas Pascal aku udah makan tadi sore aku kelaparan jadi aku makan nasi sama yang sisa tempe kemarin hahaha itu aku masakin mas mas Pascal pasta dan ya ini dia guys Hai mas Pascal halo guys ini badalak itu jam delapan malam dan seperti udah tradisi ya setiap jam delapan malam sejak ada kasus koronavirus ini kita-kita warga Perancis ya kita keluar jendela dan tepuk tangan ini gunanya untuk berterima kasih kepada ahli medis para dokter para perawat dan segalanya yang membantu kita untuk penanganan korban koronavirus dan kita sangat berdemikasi sama mereka makanya ini sebagai apa ya namanya via Hai bentuk penghormatan Ya pada jasa-jasa mereka Grazie a tutti 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 Grazie a tutti